Ha aggredito una poliziotta in forza alla squadra volante della questura di Arezzo provocando le lesioni che richiederanno sette giorni di prognosi. Un violento episodio che si è consumato nella centralissima piazza Guido Monaco proprio a poche ore dalla giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L'aggressore, un cittadino tunisino sottoposto ad una misura che lo obbligava a restare ogni notte dalle 20 alle 6 tra le mura domestiche, è stato fermato dalla poliziotta attorno alle 23 in piazza Guido Monaco dove è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana. L'uomo, con precedenti per droga, lesioni, minacce e porto di oggetti atte d'offendere, ha provato a scappare ma è stato inseguito dagli agenti della volante che sono riusciti a fermarlo. A quel punto ha reagito con calci e pugni scagliandosi sia contro il collega che la poliziotta. Il tunisino inoltre avrebbe avuto un atteggiamento particolarmente sprezzante e aggressivo proprio nei confronti di quest'ultima in quanto appartenente al genere femminile. La poliziotta ha così riportato conseguenze ad una spalla e alla mano. Per il tunisino comunque alla fine sono scattate le manette. Questa mattina si è svolta la convalida dell'arresto di fronte al giudice.